ciao a tutti ragazzi e bentornati in un mio nuovo video e perché nuovo benvenuto nel mio canale oggi vi mostro un video motivation sulla routine pomeridiana inizio pulendo la camera da letto ho un cerotto nel braccio perché oggi ho messo un mirco dermal è una tendenza in fatto di piercing consiste di un bellantino applicato sul sottopelle e viene inserita una piccola placca in titanio a forma di una piccola ancora che si avvita il bellantino lo avevo già messo nel braccio sinistro ma ho avuto lo sbattuto e si è tolto e l'ho rimesso nel braccio destro e perciò vado avanti con questo cerotto oggi comunque ragazzi sto andando a usare l'aspirapolvere quella senza fili devo dire che ci sono trovata bene non è come la folletto ma comunque aspira a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora ragazzi per pulire la camera da letto ho usato il virme liquido, questa pezzuola in microfibra e il multiuso dell'MD. Devo dire che mi sono trovata abbastanza bene e non lasciava naloni e i vetri brillavano. Grazie a tutti. 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 5 in 1 è un detersivo che compro sempre ed è un multiuso per la cucina, per i mobili e per i vetri ed è un pulito brillantante devo dire che mi ci trovo abbastanza bene perché lascia pure un gradevole profumo per la cucina, per la cucina 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 do una bella pulitina ai sanitari, nello spruzzino del cif c'è il candeggina, perché io adoro pulire il bagno con candeggina e detersivo per i piatti. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!